buon pomeriggio bene ormai manca poco all'inizio della scuola comincerà il 3 di luglio faremo tutti fine settimana sabato di pomeriggio e domenica tutta la giornata abbiamo uno splendido posto soprattutto la domenica per pomeriggio sera cominciamo nel mio studio e nel caso abbiamo un punto di sfogo in un circolo qui vicino dove per fare il simposio possiamo fare una pizza o altro e continuiamo iniziamo nel mio studio continueremo in quest'altro luogo e vedremo quante ore possiamo fare poi proseguiremo il giorno dopo in uno dei giardinetti dei giardini pubblici più attrezzati di Pistoia che era un vecchio stadio della Pistoiesse ed è proprio a ridosso delle mura la cinta delle mura d'ovest lì andremo e la solita cosa sarà un simposio perché potremo pranzare potremo cenare ma prima di pranzare parleremo prima di cenare parleremo allora la mia scuola ho detto molte volte che è fondata sull'autoconsapevolezza ora io sono circondato da un sacco di persone che fanno meditazione e i conduttori delle meditazioni parlano non di autoconsapevolezza infatti quando ho incrociato qualche conduttore di meditazione e gli ho parlato gli ho chiesto che cosa sono i livelli di coscienza gli ho chiesto anche qual è la parte più piccola del pensiero la risposta molte volte molto gentile all'inizio ma poi dopo un po' quando tende a incalzare e chiedere di argomentare alcune affermazioni generiche ecco e le risposte cominciano ad essere tergiversazioni per poi finire regolarmente con l'invito o con la presentazione di un galateo di come ci si deve comportare o qualche di un altro si attarda ancora di più a farmi qualche diagnosi e quindi nel dirmi facendomi qualche diagnosi che non dovevo porre quelle domande e se ponevo quelle domande forse non stavo bene e questo è proprio buffa più buffo di così non ci può essere va bene ma adesso questa cosa come sempre no non è un male perché questi signori hanno sollevato dei problemi l'interpretazione dell'uomo e con l'interpretazione dell'uomo un etichetta per interpretare l'uomo cioè i livelli di coscienza e poi potersi capire per conoscere te stesso devi meditare e quando arriverai a livello di coscienza giusta capisce te stesso qual è la mia critica quali sono le mie domande prima di tutto gli chiedo ma ma chi è te stesso di che è costituito in carne ed ossa questo te stesso di che cosa è fatto e qui qualcuno comincia a tergiversare qualcuno resiste ancora di più qualcuno ti invita a fare meditazione e quando arrivi a un certo livello di meditazione allora conosce te stesso e io li faccio abbiate pazienza tu ci sei arrivato dato che ti metti da fare il formatore indicarci una strada per arrivare a un livello di coscienza conoscere noi stessi ci sarai arrivato me lo puoi dire in che cosa in soldoni in che cosa consiste questo livello di coscienza soprattutto in cosa consiste questo me stesso perché questo me stesso è un qualcosa io dovrei conoscere tramite meditazione è un particolare livello di coscienza e ci sei arrivato sei in grado di dirmelo come è fatto in larghe linee in modo che io forse non capisco ma capisco la risposta inevitabile di tutti è io ti posso descrivere com'è la mela ma non saprai mai come com'è la mela fino a quando non la mangi e io gli rispondo tu che l'hai mangiata la mela me la puoi descrivere un attimo di che cosa hai mangiato come è fatto non pretendo di riuscire a percepire esattamente quello che hai percepito te di questa mela mi accontento di una descrizione di quello che tu hai gustato di questa mela nessuno risponde a questa domanda allora dov'è la differenza quando io parlo di autoconsapevolezza la mela dell'autoconsapevolezza io ve la descrivo io vi dico cos'è dov'è in che posto è della nostra mente di che fatto di quale cellule sono fatti di quale memorie di che tipo di valutazione vi dico entro qui dentro l'autoconsapevolezza riguarda lo studio di quest'organo qui vi dico le finalità di quest'organo vi dico dove si inceppa dove non si inceppa quello che sa fare è quello che assolutamente non riesce a fare questa è la differenza e non mi nascondo dietro un dito è dietro il dito che è in effetti illogico nessuno può raccontare speri non può non si può parlare di un'esperienza dicendo che poi per poterla conoscerla devi solo sperimentare è una gran furbata se te ne stai per conto tuo in un monastero a meditare e accogliere queste esperienze non hai la pretesa di inserire qualcosa a qualcuno allora te la posso anche lasciarli dartela buona ma se ti metti in cattedra e cerchi e con uno strumento come quello della meditazione che poi se è uno strumento dire c'è qualcosa che a un certo punto facendo in un certo modo tu puoi cogliere il sé e allora tu che hai colto il sé me lo puoi descrivere non pretendo che tu sia capace di farmi venire l'aquilino in bocca della mela ma che tu mi descriva che cosa hai provato ad accennare quella cavola di mela bene nell'autoconsapevolezza ora vi dico cosa si prova e nello stesso tempo spingo tutti voi ad accennare accennare la mela dell'autoconsapevolezza beh entriamo un po qui abbiamo cinque sensi e abbiamo delle memorie i sensi sono strumenti percettivi quindi quando ragioniamo minimo dobbiamo dire che i nostri pensieri senza percezioni non possono esistere ecco azzanniamo un po sta mela eh qualcuno dice di quelli dei livelli di coscienza che c'è una coscienza che è una conoscenza fuori di noi la cosa è strana non la sanna non ce la sanno descrivere ma sanno dire che c'è una coscienza fuori di noi che continua a ragionare anche se se no a noi ci tagliano la testa e quindi che noi possiamo continuare a ragionare anche se ci lasci ci tagliano la testa io dico ma continuerai a ragionare se ti tagliano la testa se praticamente non hai i sensi tu puoi continuare a pensare se si azzanna bene questa cosa la risposta è no se si azzanna questa cosa ma stranamente la nostra mente ecco vedete entro nell'autoconsapevolezza entro in questa mappa cognitiva che ha finalità se la nostra mente ha la finalità a difendere una mia visione del mondo e di me stesso e perché la difendo per quale buona ragione io tendo a difendere una visione del mondo e di me stesso beh entriamo a zanniamo questa mela nell'autoconsapevolezza che insegnerò dico e che insegno noi difendiamo noi stessi noi difendiamo un libretto di guida per una semplice e pura ragione questo è un organo il cuore e polmoni hanno una finalità cioè mantenere in piedi questa macchina questo organo per mantenere in piedi interagisce fra i bisogni del corpo nel mondo esterno tramite le percezioni quindi ha come finalità come tutti gli organi hanno di proteggere tutta la baracca quindi una visione di bene di male e anche la visione di come sono io di come dovrebbe essere il mondo di come dovrei agire o non agire a questa finalità solo che se io chiedo a loro livelli di coscienza mi rispondono la debba zannare e se io gli chiedo descrivetemi non me lo dicono poi mi chiedo ma scusate tanto dato che tutti qua avete tutti questi livelli di coscienza fate anni di meditazione per arrivare a un livello di coscienza tale da cogliere addirittura una coscienza di tipo cosmico come una specie di di grossa banca dati a cui attingere bene allora con tutta questa vostra conoscenza mi volete svelare il mistero siete in grado di rispondere a piccole domande su un'esperienza che facciamo tutti domani la giornataccia se riposo il mio corpo riposato e domani il mio corpo deve lavorare forse riesce a reggere a quella fatica enorme che prevedo che posso avere domani e cosa facciamo ci mettiamo a letto e cerchiamo di dormire ma cosa accade che vogliamo vogliamo dormire per ben due ore ci rigiriamo del letto e non si dorme poi ci incavoliamo con noi stessi mettiamo di voler dormire diamo a fare un'altra cosa e stranamente stranamente aspettatamente due minuti dopo io mi ritrovo addormentato e a volte russo di brutto a volte dormo solo per due minuti ma esaminiamo questa esperienza con tutti i livelli di coscienza tutte le meditazioni meditazioni meditare significa riflettere questo mi riflettiamo su questa esperienza come mai voglio voglio dormire non dormo smetto di voler dormire e riesco a dormire qual è l'arcano di tutto questo beh se lo chiediamo ai meditatori non sanno rispondere a questo ma io che mi baso sull'auto consapevolezza dico questa un'esperienza è un prototipo di esperienza da cui se le se facciamo le domande giuste sappiamo rispondere a queste domande giuste in modo spietato spietato vuol dire che sono capace di arrivare a conclusioni che non piacciono che non mi piacciono che sono diversi da quello che io mi aspetto o da quello che è la mia visione originale delle cose voglio voglio dormire e non dormo smetto di volere dormo questa è l'esperienza ridotto a concetti astratti per quale ragione voglio dormire e non dormo e per quale ragione smetto di volere dormo ecco questa riflessione mi porta a indagare e a scoprire l'autoconsapevolezza cioè come fatto quest'organo minimo se avevo un'idea che quest'organo avesse una funzione unica di fronte a questa esperienza qui che non posso saltare dato che non mi piace dato che non corrisponde dato che non mi dà dati tali da confermare che ho i livelli di coscienza di dare supporto all'idea dei livelli di coscienza questo non dà nessun supporto all'idea dei livelli di coscienza non dà nessun supporto al fatto che per meditare debbo stare lì a fare una oma oma è meglio fare una oma oma che a oma oma per capire per capire il se qui stiamo capendo qui stiamo analizzando un comportamento del se che vogliamo mantenere questo termine generico perché ancora non lo conosciamo ma nel riflettere cominciamo a cogliere qualche mattone di questo se quindi il mattone è che abbiamo se pensavamo che avevamo una sola funzione la dobbiamo abbandonare dobbiamo dire che abbiamo due funzioni una che va saluta ciò che è bene e cosa fare e si direziona verso quella parte lì cerca di agire per ottenere ciò che è bene e poi ce n'è un'altra che lo fa però perché ce l'abbiamo messa tutta per ottenere le cose e dopo due ore davamo punta da capo cioè non si dormiva dovevamo dormire per riposarci e affrontare la giornata domani ma è nella stessa notte ci siamo stufati l'abbiamo smesso di voler ottenere ciò che era necessario per affrontare la giornata il riposo e ci ritroviamo addormentati anche a russare questo è meditare e riflettere cosa ricaviamo a questo punto prima ricaviamo rapidamente che se pensavamo ad avere due funzioni una funzione sola ne abbiamo due una che dice ciò che bene ciò che male ci si direziona e l'altra che lo fa e quant'è che lo fa quando quella che ha detto ciò che bene ciò che male quello che voglio fare smette di volere cioè smette di agire fa un'altra cosa va alla televisione allora c'è un'altra parte di noi che è come un nastro esecutore che prende ciò che la mente la prima mente dice che ha valutato se direzionata non è riuscito a fare questa lo fa meditare significa riflettere se non si può sta a guardare un muro pensando di poter cogliere il se e poi infatti non cogliendo nessun se e dicendogli che cosa è bisogna ricorrere per forza a un auto inganno che tende ad ingannare gli altri e che cioè non te lo posso dire perché come non ti posso dire il sapore della mela ma tu lo devi sperimentare furbata pazzesca per convincerti a meditare in qualche modo senza sapere dove puoi andare a sbattere attenzione quindi c'è una parte che dice cosa vuole un'altra che lo fa e a questo punto mi devo anche chiedere allora qual è il rapporto fra queste due funzioni che prima ne pensavo una non so due ma che tipo di rapporto c'è se rileggo l'esperienza medito sull'esperienza mangio l'esperienza si arriva ai concetti quando si mangia un'esperienza no che si arriva a nessun concetto se faccio esperienza mi vengono i concetti se non mi viene nessun concetto è l'unico concetto è un concetto di un pro di d'ambroglione non ti posso dire quello che perché non lo so perché non ho riflettuto mi sono solo rincoglionito non ho pensato quindi non ho fatto nessuna esperienza non ho fatto nessuna meditazione nessuna riflessione sull'esperienza perché se faccio un'esperienza una riflessione su un'esperienza banale come quello del voglio voglio dormire non dorme e poi dormo si arriva e la posso raccontare perché quando rifletto sull'esperienza io arrivo dei concetti che sono della funzione umana e la posso raccontare non solo non posso dare delle indicazioni precise di quello che si può fare di quello che non si può fare questa è l'autoconsapevolezza è questa è una delle esperienze più banali ma ancora una volta riflettendo noi continuamente siamo infilati una specie di guado desideriamo prendere otto a scuola desideriamo stare con una ragazza desideriamo sedurre un maschietto e a desideriamo siamo tutti bravi no appena ci muoviamo per sedurre un maschietto per avere una ragazza per avere otto cosa ci capita e a molti di noi ci è capitato che più era importante quello che volevo ottenere più mi sono ritrovato come una specie di guado un desiderabile molto potente è come se mi facesse girare indietro al fatto che se non ottengo quello che desidero la mancanza il fallimento su quella direzione è un pericolo notevole per noi quindi ci troviamo in concettualmente in un guado fra il desiderabile e temibile e quando ci troviamo nel guado fra il desiderabile e temibile questa è l'esperienza da mangiare su cui riflettere a che cosa ci porta se riflettiamo su questo vedete non vi dico è quando arrivi a questo livello di riflessione allora sai no io te la dico il livello di riflessione ed è comune a tutti noi questa trappola qui basta rifletterci anche se ti piglio per mano ti faccio riflettere è comune a tutti noi ecco è piena la nostra vita di questa trappola qui mille volte ci siamo trovati fra il desiderabile e temibile e mille volte ci si è scatenato un inferno emotivo e perché ci è scatenato un inferno emotivo alcuni hanno l'ansia prima di un esame alcuni riscono di avere anche un attacco di panico prima di più importante quell'esame nella nostra vita più non raggiungere quell'obiettivo è effettivamente un pericolo enorme e quando si pensa un pericolo si scappa attenzione autoconsapevolezza un particolare di autoconsapevolezza ma io voglio andare al nucleo dell'autoconsapevolezza minimo bisogna raggiungere questo nucleo qui di autoconsapevolezza come si può passare l'esperienza di questo quadro a cosa ci porta inevitabilmente a fare un'ipotesi questo è un organo che tende a proteggerci quindi una delle ipotesi per uscire indenne fra il desiderabile e il temibile indenne significa ottengo il desiderabile e sicuramente prima di partire posso ottenere il desiderabile e prima ancora di partire so anche che quello che temo non l'avrò mai perché questo è il nostro desiderio massimo questo per noi tutti uomini è il desiderabile sapere prima ancora di muovermi che ottengo quello che desidero e sapere anche che quello che temo non non ci incorrerò mai in quello che temo ma per fare questo è possibile per la nostra mente fare questo che ipotesi posso fare per fare questo se sono nascente forse a sicuramente posso sapere prima ancora di partire di muovermi sapere che ottengo ciò che desidero e scanso contemporaneamente con certezza ciò che temo ma ecco meditare e riflettere ci porta automaticamente a cogliere il nucleo centrale di noi stessi ci accogliamo che non siamo nascenti questa è una verità per tutti auto evidente quindi da questo momento dobbiamo partire da una verità non possiamo metterla per scansarla noi non siamo onniscienti e dobbiamo passare il guado quindi come possiamo fare qual è la strada che possiamo percorrere come la possiamo percorrere vedete si apre subito una strada sicura per deduzione non sono onnisciente quindi l'unica cosa che posso fare spero mi incammino e spero di raggiungere quello che il mio desiderabile e mi chiedo e mi chiedo se poi non lo tengo se poi non lo tengo non posso fare altro che riparare aggiustare cioè non posso fare altro quindi non sono autoconsapevole cioè non sono nascente come verità assoluta assoluta e auto evidente e sotto verità da questa verità è che posso incamminarmi per ottenere ciò che desidero e al massimo se non lo tengo posso aggiustare e più in là non si va per gli uomini questa è la condizione dell'uomo questo è il punto d'arrivo di ogni meditazione e non è il rincoglionimento della nostra funzione umana ma è proprio la nostra funzione umana che ci può far raggiungere questo risultato se la si usa con coraggio perché dico con coraggio perché di fronte all'incertezza del futuro tutti noi vorremmo avere uno scudo iper protettivo dove prima di partire ho la garanzia che arrivo qui e non prendo una botta nel sedere se ci riflettete tutti noi desideriamo questo tutti noi ma lo possiamo avere solo se fossimo onniscienti dato che non lo siamo l'autoconsapevolezza del nostro limite che è quello di non essere onniscienti è la prima grande verità che riguarda quest'organo che riguarda questa mente le altre verità le abbiamo già viste che abbiamo due funzioni una che dice e una che fa l'altra verità che parte dal fatto che non siamo onniscienti è che c'ho solo una strada senza nessuna alternativa da percorrere e una via da costruire su ciò che tutti scartano comprese i meditatori a oltranza perché i meditatori perché stanno a meditare perché molta gente è catturata dall'idea della meditazione perché è uno strumento che in qualche modo sembra darci la garanzia per uscire dal guado fra il desiderabile e il temibile non te la dà la garanzia perché appena seriamente quando una cosa è importante e vuoi la cosa importante automaticamente la vuoi e vuoi immediatamente una garanzia per andare avanti la meditazione si può tenere solo quieto qui anche perché se ti incoglionisci a guardare un muro o a fare ahum ahum e saturi il pensiero se i pensieri sono azioni il cuore non non frulla come un disperato come quando penso a qualcosa di pericoloso devo scappare eh? meditare significa riflettere e non è un qualcosa di strano che ci può far cogliere questa cosa ma è proprio quella che i meditatori dicono che quella che ci crea problemi sì è vero è quella che ci crea problemi ma anche l'unica che può tirarci fuori da questo maledetto guado in cui tutti noi ci incastriamo e da cui tutti vorremmo uscire da onniscienti ma non essendo onniscienti dobbiamo piegare al nostro limite piegare proprio la nostra funzione voltativa che non accetta di piegarci a questo limite perché non l'accia è un organo questo è programmato a proteggerci sì eh se eravamo ignoranti facevamo come gli animali se andava in tentativa non sapevamo dove andare noi qui possiamo fare delle ipotesi purtroppo se eravamo onniscienti ce la cavavamo con con delle ipotesi e un organo è tanto protegge siamo nei guai ma è proprio il riflettere la vera meditazione riflettere sviluppare la facoltà di auto riflessione per raggiungere a una via inconfutabile autoconsapevolezza che ci porta a dire che non siamo onniscienti autoconsapevolezza ci porta a dire che non abbiamo alternative al fatto di sperare e aggiustare e non ci sono alternative per uscire indenni da questo guado fra il desiderabile e il temibile bene signori in questa nostra scuola parleremo di questo parleremo anche di altro ma soprattutto la tecnica ipnotica è l'unico strumento che serve per supporto alla riflessione e soprattutto serve per supporto alle ipotesi che dalla riflessione noi tiriamo fuori e serve da supporto da da supporto sperimentale perché un'ipotesi che anche di verità auto evidenti e di sottoverità che nascono da una verità auto evidente per la nostra mente umana che ha la tendenza a iperproteci la nostra mente umana ha bisogno di un supporto esperienziale per poter dire sì questa ipotesi è vera e piegarsi finalmente all'unica strada possibile da percorrere è quella di sperare e aggiustare e l'ipnosi ci darà questa esperienza perché qualunque fenomeno ipnotico io riesco a fare lo fa come quando quella benedetta notte voglio voglio dormire smetto di voler dormire e dormo così un fenomeno ipnotico io che faccio l'ipnotista sposto la funzione valutativa con cui mi sono messo d'accordo per produrre un fenomeno ipnotico come un desiderio da realizzare e per realizzarlo con un trucco in questo caso comunicativo sposto la funzione valutativa e lascio che l'altra funzione che abbiamo che è un'intelligenza che abbiamo in comune con gli animali ma che che grazia di meditazione si fa se non ci guardiamo se io chiedo a questi meditatori a oltranza ma l'uomo è ibrido o no? non ci pensano manco lontanamente al fatto che noi abbiamo un'intelligenza in comune con tutti gli animali mammiferi facciamo esattamente quello che fa qualunque animale mammifero e che su questo animale mammifero c'è un'intelligenza tipica della specie umana che ha semplicemente una banca dati di ricordi lunghi con cui può fare i fotosi che riguardano il futuro questo è l'uomo c'è da meditare ma qualunque meditatore se gli chiedete che cos'è se abbiamo due menti se siamo ibridi beh ti dicono di no no medita deve arrivare a un livello all'ora conosci te stesso poi gli dici ma com'è questo te stesso è qui dicono devi prima assaporare perché non si può sapere beh io dico che tu sei un bel furbastro perché quando si medita quando si riflette quando si riflette su un'esperienza compresa la nostra esperienza si arriva automaticamente dai concetti e i concetti si raccontano si ricordano e si raccontano tutte le filosofie sono basate su concetti e tutti i concetti sono il minimo comune denemoniatore di un'esperienza quindi se fai un'esperienza ad assaggiare la mela tu dovrai avere un concetto capace esplicativo un minimo comune di quell'esperienza sensoriale per potermela raccontare se dopo aver fatto questo non hai nulla vuol dire che tutto quello che stai vendendo è puro fumo grazie a tutti